Ok, adesso non mi ricordo in che punto ci sono, forse è da questa parte, no, è dall'altra parte. Bisogna trovare il punto che adesso, merda, ho sbagliato, ecco sono lì sopra i bersagli, però come, ah forse ci arrivo di qua adesso, no? Devo salire sopra di questo, ok, allora con la mitraglietta proviamo, uno, sì, ok fatta, allora la zona l'avete visto dov'è? Già, le cose si fanno in te, secondo me, anziché la fratellanza della pace, hai la stoffa per farcela. Come mangiare la tua aioli alle 15 spezie? Esatto, gli ingredienti segreti sono l'unzule e ira. Ok ragazzone, abbiamo fatto la terza missione, colpisci i bersagli con mitraglietti o fucili d'assalto mentre fai il grinding su una, una, sbarra. Allora, 3 di 7, adesso dobbiamo fare, vince il gioco arcade ai laboratori della codice, in pratica, eh porca puzzola, è già nella tempesta. Allora, 3 di 7, adesso dobbiamo fare, vince il gioco arcade ai laboratori della codice, in pratica, in pratica, in pratica, in pratica, in pratica, in pratica. Allora, 3 di 7, adesso dobbiamo fare, vince il gioco arcade ai laboratori della codice, in pratica, in pratica, in pratica, in pratica, in pratica, in pratica, in pratica.